della Winter Cup, di questa Winter Cup che si gioca a San Matino di Lupi. Onorio calcio d'angolo per i Lupi. Bertoni, Onorio! Eccolo qui! Il vantaggio della Luparense. Il posto di Avellino, rotazioni per Basile. Grande la risposta del Latina che segna con Bicapau. E quindi 1-1. Il possesso è gestito male ma comunque la Luparense rimane col pallone tra i piedi. Mattias, Clara, gol del 2-1. Avellino gli prende benissimo il tempo, Battistoni. Battistoni! E si fa trovare dalla parte giusta il numero spazio. Adesso c'è l'atta a borda, si è centrata a borda! Ed è il gol di Alan Brandi che finalmente si sblocca con la maglia della Luparense e segna il gol del 3-2. Minuto e mezzo che ci separa dal termine a difendere bene. Risultato Brandi! Brandi! Che gol! Alan Brandi! È il gol del 4-2! Vedere Picapauca la coda dell'occhio, il suo compagno recuperano i Lupi. Di nuovo onore per Brandi. Bertoni! Bertoni! Che azione corale incredibile della Luparense! Scuso per Taborda. Taborda per Brandi. Ancora la Luparense! E ancora Taborda! Che sigla il 6-2! Cede il possesso la Luparense, il giocatore numero 13 del Latina. Spazio, Taborda! 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 Gol pazzesco di Pablo Taborda! È il gol del 7-2! E difende, Miarelli è in agguato. E spedisce a Mancuso. Tope! Che gol! Adesso è il gol del Latina. Il gol di Avellino. Guai e ha le disattenzioni. È praticamente finita. E finisce così. La Luparense si qualifica per la Final Four di Winter Cup. Battendo 8-3 il Latina.